Se anche tu vuoi sapere cosa bisogna prendere per iniziare ad osservare, ti consiglio di seguire questo video. Ma prima, sigla! Ciao, io sono Luca e sono uno youtuber e racconto un'astronomia facile per tutti. Quindi, se vuoi sapere di più di questo mondo, ti consiglio di seguire questo video. Prima di tutto partirei con dei materiali inutili, cosa che io ti sconsiglio di portare. Ed è proprio il telefono, e voi vi chiedete perché sei contro i telefoni? No, per il semplice fatto che il tuo occhio deve abituarsi al buio per vedere meglio i colori. Soprattutto se volete vedere dei corpi celsi lontani come nebulose e galassie. E già si vede in bianco e nero di loro. Poi voi siete abituati col telefono, alla fine vedrete poco o niente. Quindi io vi consiglio di proprio, se volete proprio fare delle foto, chiedete di farlo fare a qualcun altro, a tua madre, a tuo padre o a un tuo amico. Perché sennò rischiate di non vedere niente. Ma adesso iniziamo con i materiali vero e proprio. Inizierei con la cosa più importante, cioè il telescopio. Ma se tu non hai ancora un telescopio, stai cercando un telescopio adatto a te ma non capisci le specifiche tecniche o comunque cose bisogna guardare di un telescopio, ti consiglio di vedere questo video qua. Ti lascio il link in descrizione. Poi ci servirà questo oggetto qua che non è nient'altro che una torcia. Ma non è una semplice torcia perché, guardate, quando io l'accendo, questa qui è della Celestron, l'accendo e emana luce rossa. Cos'è questa luce? Cosa ci serve? Beh, perché ci saranno i punti successivi. Più che altro per vedere l'astronabio, l'atlanto, qualsiasi cosa vogliate leggere. Ovviamente leggere, nel senso, nel cartaccio. Ma adesso iniziamo con i due protagonisti di oggi. Prima l'atlante di astronomia, sempre di libreria geografica, e poi l'astrolabio, l'astrolabio fosforescente, sempre di libreria geografica. Ma iniziamo a spiegarvi questo qui. Atlante di astronomia, l'avevo consigliato in un video, non mi ricordo quale, ma vi lascio il link in descrizione. Praticamente l'atlante di astronomia è una guida pratica per osservare il cielo. Ed è vero, soprattutto questa qui mi piace molto perché questa qui è la costellazione dell'acquario. E oltre a farvi vedere appunto la forma della costellazione, vi spiega un po' in generale gli oggetti, la storia e un po' di cose, le stelle principali. Insomma, questa l'atlante ve lo consiglio molto molto. E invece questo che è l'astrolabio, ed è molto importante perché anche questo ci aiuta con l'osservazione del cielo. In pratica sappiamo cosa c'è nel cielo in quel momento esatto. Se però non sapete come funziona, o vorreste rimparare ad utilizzarlo, beh, riuscirà uno show se fra qualche giorno. E quindi vi consiglio di andarlo a vedere. Gli oggetti successivi che ci serviranno saranno una bussola perché ci servirà per indicare, perché ci serve il nord, per posizionare il telescopio. Ma lo vedremo poi nel prossimo video che uscirà sabato prossimo. E la bolla, la livella, che appunto serve per mettere in bolla la base del telescopio. Ma anche qui vi spiegherò come fare nel prossimo video. Ma gli ultimi oggetti, ma non di meno importanza, sono gli oculari. Uno precisamente da 25 mm e l'altro da 10 mm. Sarebbe anche bene avere uno da 3 mm, ma io in questo momento non ce l'ho, ma in un futuro vorrei proprio prenderlo. Perché appunto è proprio apposta per il mio telescopio per vedere i pianeti del Sistema Solare. Ebbene sì, il video è finito, ma la prossima settimana uscirà un video su come montare e come osservare con il telescopio passo passo. E se il tempo lo permette potremo vedere, ad esempio, il Sole. Ma lì sarà tutto da vedere più che altro se il tempo lo permette. Quindi noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovissimo video. Ma noi per il momento ci salutiamo qui. Quindi ciao!